Caliamo un asso, una classe dirigente in rosa, tutte donne alla guida di un partito che si richiama ai valori e agli ideali della democrazia cristiana. È una scommessa, ideali antichi affidati a formule e persone nuove. C'è bisogno di tradurre in impegno politico valori che sono propri della nostra tradizione e che sono validi per i credenti naturalmente, ma anche per i non credenti, perché la ispirazione cristiana della nostra società è un valore condiviso anche da chi non va ammessa. Si guarda al futuro, si guarda come diceva lei alle prossime elezioni, visto che la campagna elettorale dura da tanti anni, voi sarete ovviamente al fianco del centrodestra, ma c'era bisogno di un altro partito di centrodestra? I partiti sono uno strumento, servono le identità. Noi siamo la democrazia cristiana possibile oggi. Come si presenterà? Con una propria lista, insieme ad altri. Questo lo decideremo assieme al Presidente Berlusconi, che è il leader della coalizione e dunque ha la responsabilità di organizzarla. Avete fissato qualche obiettivo per quanto riguarda i risultati da raggiungere da oggi fino al 2018? Esserci, riportare l'ADC in Parlamento. In questa legislatura è stata rappresentata solo da me ed è un po' triste.